Buona giornata amici da Massimo Foghetti, ben trovati alla rassegna stampa di Pano TV. Oggi è mercoledì 19 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia. Oggi si festeggia una santa il cui nome è ancora attuale, ancora diffuso, specialmente ovviamente tra le donne dato che è una santa e non un santo. Il nome è Sant'Emma, Sant'Emma di Sassonia, visse nell'undicesimo secolo una santa tedesca, sorella di un altro santo che si chiamava Mangimberco. Ed era vescovo di Paderborn, un piccolo paesino della Germania. Emma, sposatasi da giovane con il conte Luggero, divenne presto vedova. E lei fece di questa condizione un perfetto modello spirituale perché nella vedovanza trovò l'occasione di avvicinarsi in maniera molto molto intima a Dio. E di questo progetto lei fece anche un motivo per coltivare la sua dedizione verso la povertà. Aiutò moltissimo i poveri, era così proprietaria di un ingente patrimonio che usò per sollevare le miserie e soprattutto le infelicità dei poveri. E questo appunto è il modello proposto da Sant'Emma di Sassonia. Le previsioni del tempo. Vediamo che il tempo migliora sulle marche. Ecco qui la grafica. Nubi sparse in mattinata però con un clima asciutto. Instabilità in aumento dal pomeriggio con acquazioni e temporali sulle aree interne. Sulle coste i venti spireranno con una tensione media da nord-ovest, nell'interno invece con una tensione più debole da nord. Le temperature si aggireranno tra gli 11 e i 17 gradi, il mare è mosso. Queste le previsioni del tempo. Ed ora passiamo subito alla lettura dei giornali iniziando dal Corriere Adriatico. Questa mattina sulla pagina di Fano vediamo che l'apertura è dedicata al piano regolatore generale. Il piano regolatore che è da molto tempo in fase di redazione da parte della giunta di Massimo Seri. Ora siamo arrivati alla fase finale. E ieri pomeriggio è stato presentato alla cittadinanza dopo che in precedenza è stato fatto nei confronti degli ordini professionali. Sala a riunioni di Marine Center, in Sassonia gremita di persone curiose di sapere quali sono state le scelte della giunta. Scelte comunque che verranno confrontate ancora con le assemblee di quartiere. Quindi ieri è stata soltanto una riunione di carattere generale per così evidenziare soprattutto le linee di tendenza, le scelte che ha fatto l'amministrazione comunale. Poi per ogni quartiere si esamineranno i problemi specifici appunto dell'assetto urbanistico locale. PRG innovativo, dice il titolo, al centro le relazioni fanno il miglior posto in cui vivere. Questo è un po' il senso di questo piano regolatore generale che è stato comunicato, espresso dal vice sindaco assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. Un piano regolatore generale innovativo sia nella forma che nella sostanza. Nella forma perché verrà presentato all'approvazione del Consiglio Comunale non in forma cartacea ma in forma digitale. Insomma si adegua alle tendenze più moderne anche lo strumento urbanistico. E poi nella sostanza perché intende prestare particolare intenzione alle persone, ovvero al vivere sociale. Non solo dunque alle strutture edilizie, non solo alla programmazione di espansione o non espansione urbanistica, ma anche al vivere sociale alle persone. E veramente programmare una città incide sul vivere sociale perché con le strutture che servono per così fomentare la coesione di un quartiere, questo incide appunto sulle relazioni. Relazioni che non coinvolgono soltanto le persone, ma relazioni che coinvolgono i luoghi, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e anche il rapporto tra il pubblico e il privato. Questi sono i tre aspetti che sono stati annunciati. Un piano urbanistico di relazione tra le persone, i luoghi e il rapporto tra pubblico e sociale. Rientra nel piano regolatore, dunque il piano delle relazioni. E ieri hanno relazionato diversi relatori. C'era ovviamente il sindaco Massimo Seri e c'erano anche i tecnici, oltre alla relazione iniziale che ha fatto Fanesi. Dedichiamo ancora qualche secondo a questo articolo per vedere un attimo quali sono le enunciazioni che ha fatto la Giunta. Ebbene, ormai si è stabilizzato a Fano il fenomeno migratorio, quindi la popolazione ormai rimane sui 60 mila. Sembra che qualche numero inferiore di 60 mila sia stato calcolato. Comunque questa è la popolazione di Fano, quindi si è rinunciato ad estendere i comparti, a fare comparti molto grandi. Si è cercato invece di insistere sul costruito e di qualificarlo soprattutto. Ebbene, si cercherà poi di incidere anche su quella verticalizzazione che ha caratterizzato alcuni quartieri storici come il Porto, la Paleotta, il Poderino, cercando di limitare l'abbattimento delle villette per costruire edifici di tre o quattro piani. Poi abbiamo anche soluzioni che riguardano le cosiddette aree risorsa o aree problema come il Vittorio Colonna da convertire in Silver House, ovvero una casa dedicata agli anziani. E poi ancora incentivare gli investimenti su Carignano, sulle terme di Carignano, corredato da un albergo diffuso, ecco, anche quindi il centro storico di Carignano potrebbe contribuire alla valorizzazione delle aree, non solo l'area delle terme. E poi ancora vediamo il Vittorio Colonna. L'abbiamo detto, Carignano, l'ex zuccherificio, ecco, l'ex zuccherificio che dovrebbe essere rivitalizzato per quanto riguarda un possibile investimento. E poi c'è anche l'espansione della zona industriale di Bellocchi, una espansione che è rimasta sulla carta, già programmata da tempo, ma che ora viene convalidata. Sono scelte strategiche, queste che incideranno, ma ne sapremo di più. Poi qualcuno ha fatto anche delle critiche, ovviamente, ci sono stati gli ambientalisti che hanno così evidenziato troppo cemento, ci sono stati quelli che hanno posto problemi alla viabilità, c'è ancora sospesa la vicenda dell'ultimazione dell'interquartieri. Insomma, diversi aspetti, critiche e consensi, ma soprattutto ancora la Giunta deve focalizzare il suo intervento sul piano regolatore e lo farà nei quartieri. Vediamo subito le altre notizie. C'è anche un'assemblea di un'associazione, un po' tra associazione e partito politico, anzi lo era, adesso è ancora un'associazione, ed è Bene Comune che appoggia il Movimento a 5 Stelle. Ebbene, si è svolta l'assemblea di Bene Comune, che appare presieduta da Barbara Bellini. Ebbene, Bene Comune boccia senza ripensamento, senza alcun ripensamento, i dieci anni della Giunta Seri. Bene Comune chiede discontinuità rispetto alle due tornate amministrative del Sindaco Seri. Una secca bocciatura di entrambe le amministrazioni, che ovviamente lancia dei riverberi politici per quanto riguarda le prossime elezioni. Ebbene, Bene Comune appoggia senza mezzi termini il Movimento 5 Stelle, che ha apprezzato per il suo lavoro in Consiglio Comunale. E soprattutto Bene Comune all'interno del 5 Stelle è stato rappresentato da Matteo Giuliani, che poi ha dato le dimissioni ed è entrato Giovanni Fontana. Ebbene, Barbara Bellini ha ribadito la volontà di continuare il percorso politico mai interrotto dal settembre del 2003. C'è stato un momento di stanca di Bene Comune, ma questa associazione è così vitale da rimanere sulla breccia. E poi, che cosa dice? Quali sono gli obiettivi per le prossime elezioni? Al primo posto i principi di Fano, la città delle bambine e dei bambini, quindi i principi che ispirano una città adatta a tutti, in modo particolare ai più fragili, e soprattutto caratterizzata da una mobilità compatibile. Un articolo che riguarda la drammatica vicenda di Anastasia, la ragazza ucraina che è stata uccisa dal marito e che ha così indotto a tanti tanti fanesi a commuoversi per quanto è avvenuto, soprattutto anche per la sorte del piccolo figlioletto che ora è costudito dalla nonna appunto nel suo paese natale. Anastasia, le indagini verso la chiusura, dice oggi il Corriere Adriatico, sono state compiute verifiche su impronte e del DNA del marito. Si tratta di Mustafa Alashri, un egiziano che ora rischia l'ergastalo. La difesa ribalta lo scenario, lui era vittima di maltrattamenti, dice la difesa, e richiede la perizia psichiatrica. Comunque l'ultimo accertamento ha riguardato le impronte digitali e il materiale biologico collegati allo scenario del delitto. Sono riscontri scientifici che dovrebbero chiudere il cerchio delle indagini e che consentiranno al pubblico ministero, si tratta di Marino Cerioni, di chiedere al giudice il rinvio a giudizio dell'egiziano. Insomma, un iter burocratico di carattere giudiziario che è necessario per arrivare al processo. Ancora sulla cronaca vediamo un ritorno per quanto riguarda le presenze abusive al Vittoria Colonna. Ex convinto dopo il blitz, ancora intrusioni. Insomma, non c'è veramente religione, lo diciamo così per scherzo. Ma nonostante i continui bizze della polizia, ebbene questo grande complesso edilizio che è limitrofo al centro storico di Fano, viene continuamente invaso dai strani che dentro fanno veramente di tutto, sporcizia, devastazione, danni, veramente una cosa infernale. Continuano le intrusioni all'interno dell'ex convinto Colonna in via Montegrappa a Fano. Lunedì scorso, intorno alle 23.45, eravamo vicini alla mezzanotte, i residenti del quartiere hanno notato un gruppo di persone uscire in tutta fretta dall'edificio e attraversare la strada all'altezza della scuola elementare Corridoni. E poi si sono dileguati, in men che non si dica, probabilmente hanno subodorato qualche presenza di forze dell'ordine che avrebbero potuto entrare e quindi di nuovo fermarli, denunciarli e via dicendo. Ebbene, poi c'è anche una presa di posizione, una nuova presa di posizione di Fratelli d'Italia che chiede con insistenza una ordinanza da parte del Sindaco che costringa in un certo modo l'Inps, l'istituto che ne deriva, di costruire degli impedimenti affinché queste intrusioni non si verificano ma soprattutto dovrebbe dare una nuova funzione a questo grande complesso. Una presenza importante a Fano si annuncia per quanto riguarda un convegno in programma venerdì prossimo alle ore 17 nella chiesa, nella sala del Gonfalone in via Rinalducci. Sarà presente Hilda Bocassini, uno dei magistrati di Mani Pulite. Ebbene, presenterà il suo libro. Si tratta la stanza numero 30, cronache di una vita, edito da Feltrinelli, in cui la Bocassini rievoca un po' tutte le vicende di cui è stata protagonista. Protagonista di una fase importante della vita della nostra Repubblica. Una vita travagliata ovviamente, ma sempre posta all'attenzione della legalità. Questa è Hilda Bocassini. Giriamo la pagina, siamo sempre a Fano, dove vediamo che ieri si è presentato il Gran Galà dell'Oglio. Gran Galà dell'Oglio ed Expolea, due iniziative che si svolgeranno nel fine settimana, sabato e domenica prossima. Vediamo che alle 10 al Pincio verrà inaugurata Expolea, la mostra al mercato dei migliori oli d'Italia e del Mediterraneo, associate anche ai prodotti locali. Gli stessi produttori, ne sono previsti 25, incontreranno il pubblico offrendo degustazioni guidate e assaggi. Sono i migliori oli, veramente quelli che l'Italia, che è famosa per la produzione di olio, ma anche altre nazioni come la Spagna, come la Croazia, come la Turchia, saranno presenti a Fano in questo evento. Perché? Perché a Fano ha alla sua attività un'associazione di degustatori il cui giudizio viene tenuto in gran conto da parte di quei produttori che intendono porsi sul mercato nazionale, sul mercato dell'olio. Un mercato importante, un mercato che fa i conti ovviamente con le variazioni climatiche, con i momenti di crisi, i momenti di prosperità, ma comunque un mercato che procura un grande risultato economico. Ci sono due momenti, abbiamo detto, uno alle 10 di sabato che viene inaugurato al Pincio, quell'altro nel pomeriggio alle 16 nella Pinacoteca San Domenico, dove avverranno le premiazioni di coloro che hanno partecipato alla quattordicesima edizione del premio nazionale Loro d'Italia e alla dodicesima edizione del premio internazionale Loro del Mediterraneo. E poi ci sono anche iniziative di solidarietà, perché tutti questi oli che sono stati presentati ai concorsi verranno poi donati alla Messa di San Paterniano e alla Fondazione Lega del Filo d'Oro a nome di tutti i produttori, quindi anche i disabili, anche i poveri potranno così degustare un olio di grande qualità. Appuntamento dunque sulle vostre agende per quanto riguarda sabato e domenica. A Cantiano, a Cantiano si soffre, si soffre non solo per i postumi dell'alluvione, ma si soffre per la chiusura della Contessa. E già, nonostante che questa sia stata chiusa dal lunedì scorso, quindi da pochissimi giorni, già si soffre per gli effetti negativi che questo provvedimento comporta. Lavori partiti, affari già crollati, vogliamo ristori economici. La Contessa chiusa, già mille adesioni per quanto riguarda la raccolta di firme che intende così sollecitare i lavori, fare sì che questi non ritardino, che vengano compiuti al più presto e poi qualche ristoro economico per tutte le aziende che stanno soffrendo già ora, dopo due giorni di chiusura, della limitazione di clienti, di mobilità, insomma difficoltà veramente strutturali. Chieste garanzie anche sui tempi. Poi vediamo che Mondavio ha ricevuto un premio per quanto riguarda la sua accoglienza ai camperisti. Si tratta di un attestato come nuovo comune amico del turismo itinerante, progetto dell'Unione Club Amici. Ebbene Mondavio, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione e perla dell'itinerario della bellezza. Andare a Mondavio e vedere ovviamente la rocca medievale è una suggestione che si prova molto, molto intensa e molto bella. Giriamo la pagina, siamo a Senigallia. A Senigallia si promuove il turismo ma si soffre della carenza di alberghi. E lo vediamo qui in questo articolo. Camere sold out negli alberghi, cancellato il villaggio Col di Retti. Doveva essere questa una manifestazione che avrebbe dovuto tenersi dal 14 al 16 luglio, ma ora si terrà in un'altra città. Perché si terrà in un'altra città? Perché era stato individuato come sistemazione logistica di tutti gli intervenuti a questo villaggio della Col di Retti L'albergo che si chiama esattamente Sen Hotel, il Sen B Hotel è chiuso e quindi 300 camere erano state prenotate e non ci sono e quindi salta tutta la manifestazione. Occorre veramente predisporsi di tutta l'accoglienza ovviamente prima di organizzare le manifestazioni. Ma questo è un imprevisto che è piombato addosso agli organizzatori. Pesaro, Pesaro. Vediamo che piazzale d'annunzio è nel pieno dei lavori e questo ovviamente crea anche dei problemi. Un piazzale sotto sopra viene definito quello di piazzale d'annunzio a Pesaro ma con il cascone che non si sposta, si sposterà quando verrà realizzato il nuovo basame. Il cascone è quello di Valentino Rossi, questo lo vediamo qui in questa foto. Eccolo qui, il cascone enorme casco di Valentino che ricorda l'importanza che questo atleta ha determinato per tutto il territorio. Per ora comunque non si sposta. Il progettista Leoni rassicura i fan che sostano attorno al cantiere. Gli scavi sono quasi finiti, i lavori procedono allacremente. E guardate in piazza del Popolo a Pesaro quale gru è stata installata. È una gru alta 50 metri, veramente a un'altezza incredibile. Serve per realizzare i lavori all'intendenza di finanza, quell'edificio che costeggia il Palazzo Ducale di Pesaro. La super gru in piazza, il braccio è di 52 metri. Poi vediamo un articolo di cronaca. Si spaccia per un medico del Bufalini e mette in vendita online bici rubate. La polizia ritrova decine di mezzi trafugati, tra cui monopattini e un casco anche griffato di Valentino Rossi. Che cosa è accaduto? È accaduto che questo personaggio, si tratta di un trentenne albanese, già noto poi tra l'altro alle forze dell'ordine, si era presentato su Facebook con un nome falso, un nome falso e una falsa identità. Si professava come medico dell'ospedale Bufalini di Cesena, in realtà non lo era, e aveva messo in vendita diverse bici, mountain bike, bici da corsa, monopattini, tutti i mezzi rubati, e proprio gli stessi proprietari hanno riconosciuto questi mezzi come di loro appartenenza, e quindi hanno denunciato la cosa alle forze dell'ordine nelle quali poi sono risaliti all'autore di questo furto. Ancora sulla cronaca, caporalato dietro il volantinaggio, i migrati spiati con le telecamere, un pakistano che aveva orchestrato questo sistema di sfruttamento, pagati pochi euro per 12 ore al giorno e sistemati in alloggi faticenti. Un pakistano patteggia due anni di fronte al giudice, ebbene, che cosa faceva? Aveva così assunto dei suoi connazionali per la distribuzione di volantini, e insomma gli sfruttava, gli costringeva a turni massacranti. Secondo l'accusa, li avrebbe ospitati in alloggi faticenti e degradanti, come poi hanno accertato i carabinieri che hanno compiuto le indagini. E poi avviamo ancora la pagina di Urbino. La pagina di Urbino, ecco alla qua. Arriva la nazionale di basket, raduno tecnico di tre giorni. Da venerdì a domenica, a Urbino gli atleti paraolimpici, due incontri pubblici. Si tratta dell'incontro nazionale di pallacanestro che la Federazione Italiana Sport Pariolimpici degli intellettivo-razionali ha programmato dal 21 al 23 aprile ad Urbino. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata ai lavori che stanno per iniziare al Teatro della Fortuna. Cantiere in teatro, stop per cinque mesi. Ebbene, il Teatro della Fortuna non sarà visitabile, non sarà operativo per cinque mesi. E' questo il tempo necessario per compiere importanti lavori relativi all'efficientamento energetico. Purtroppo i prezzi stanno lievitando. Il tutto costa 775 mila euro e i prezzi, come ci annuncia il titolo, sono già aumentati di 120 mila euro. A fine aprile dunque cala il sipario sullo scrigno, così viene definito perché veramente è uno scrigno di grande bellezza, il Teatro della Fortuna, per permettere i lavori di efficientamento energetico. La presidente della Fondazione, Katia Amati, dice ci rivedremo a ottobre. Sono precluse anche le visite, così come abbiamo detto, mentre l'assessore ai lavori pubblici, Barbara Brunori, con il PNRR, dice finanziamo metà dell'intervento. Quindi sono soldi anche che arrivano dallo Stato. E poi anche il resto del Carlino evidenzia la presentazione del piano regolatore generale che si è svolta ieri a Fano. PRG, luci sui quartieri, bello, ma è una favola. Sì, perché è un leitmotiv quello che si dice, il piano regolatore è un bel sogno, è un bel libro dei sogni e poi in realtà si realizza poco. Queste un po' sono le critiche che sono state evidenziate anche da alcuni interventi nell'incontro di ieri. Sono stati interventi che hanno mostrato scarsa fiducia nella realizzazione, ma non solo nella realizzazione, anche nell'approvazione di questo strumento urbanistico da parte della Giunta Seri perché il tempo incorre e ormai la fine della tornata amministrativa è prossima. Noto scrittore invitato a Mondolfo, ma lo si fa dormire a San Costanzo. È Bonaccorsi, capogruppo della minoranza consigliare, che attacca il sindaco. Che figura ci facciamo, ha dichiarato con Matteo Bussola che non siamo all'altezza di ospitarlo. Ebbè, insomma, questo è un po' il risultato di questa vicenda. A Urbino invece si parla di nascita. Il centro nascita di Urbino è sempre un centro di eccellenza, qui dove la Cicogna viaggia ancora spedita. Il calo delle nascite è un po' un problema che coinvolge tutte le regioni d'Italia, però il primario di ostetricia di Urbino dice che sono già nati quest'anno 141 bambini e Urbino è veramente un'eccellenza. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 con il ETG di Fano TV Occhio alla notizia. Grazie per l'ascolto. A risentirci. A risentirci. A risentirci. a risentirci. A risentirci. Grazie.